In questi anni abbiamo lavorato in tanti provvedimenti, diciamo che negli ultimi mesi e negli ultimi giorni quelli più importanti riguardano ad esempio l'avvio delle procedure di stabilizzazione per quanto riguarda gli ASU questo è passato nella finanziaria, sono io uno dei sottoscrittori degli emendamenti abbiamo lavorato prima in commissione lavoro per passare questo emendamento poi siamo riusciti a farlo passare in aula, adesso una platea di 5500 persone che da 20 e passa anni anche da 30 anni lavorano come ASU nei vari enti locali ma anche in delle cooperative private finalmente hanno la possibilità entro 180 giorni dall'approvazione della legge di poter avere avviato le procedure di stabilizzazione così come sono stati fatti in passato per gli LSU e altre platee e oggi questi sono contrattisti e hanno la possibilità finalmente di essere stabilizzati diciamo che questo è un grandissimo risultato ottenuto perché anche su questo emendamento ad esempio c'era il parere contrario del governo e anche col parere contrario del governo siamo riusciti in aula ad approvare questa norma, ripeto, importantissima per una platea di 5500 persone io credo che la sburocratizzazione darebbe sicuramente un grandissimo impulso all'economia siciliana molte imprese da fuori non vengono in Sicilia proprio perché sanno tutti i problemi che crea la calza burocratica per cui riuscire a fare delle norme semplici, immediate, che ti danno la possibilità di avviare le attività secondo me darebbe un grandissimo impulso alla nostra economia che in questo momento è ferma che che ne dice qualcuno in giro come se dovesse arrivare da qui a qualche giorno chissà chi per far ripartire l'economia in Sicilia l'economia in Sicilia purtroppo è ferma abbiamo lavorato già a novembre e dicembre per quanto riguarda le norme sulla disabilità perché c'eravamo accorti che c'era un problema c'era un problema con le ex province ad esempio le ex province, oggi le città metropolitane e i liberi consorsi non riuscivano nei tempi a far partire tutti i servizi per i ragazzi disabili ad esempio quelli che devono andare nelle scuole provinciali tutti i servizi di cui si occupano le ex province regionali era folle non avere una norma che consentisse di avere servizi importanti per queste persone oggi finalmente abbiamo la norma, abbiamo lavorato tutti sia in commissione che in aula abbiamo trovato delle risorse importanti ora siamo forse tra le regioni che mette più soldi per la disabilità gravissima e quindi noi ci auguriamo che adesso la norma funzioni perché se non funziona la norma dobbiamo ritornarci di nuovo perché ripeto non si può guardare questi ragazzi come ragazzi di serie B anzi